Dottore Misuranca, come stanno andando stamattina questi lavori? Allora, devo dire che la preparazione è abbastanza elevata degli equipaggi, sono arrivati già due equipaggi, gli equipaggi di Melilla e di Valverde e devo dire che li ho trovati con uno standard di preparazione abbastanza elevato, hanno fatto una buona immobilizzazione per quanto riguarda un intervento e sicuramente questo è di buono auspicio per il fine ultimo della simulazione che è quello proprio di saggiare la qualità degli equipaggi di volontariato che vengono a quei morti nell'emergenza e nel soccorso. Una sua impressione, i volontari delle misericordie siciliane, quelle intervenute, stanno partecipando con impegno, con interesse, con gioia? Io sono sicuro che è così, come giustamente ha detto lei, sono stato sempre convinto che poi alla base del volontariato ci deve essere questa voglia di fare, di fare con il cuore e penso che proprio oggi io sto vedendo che tutto quello che viene fatto viene fatto veramente con entusiasmo, proprio con la voglia di aiutare gli altri e di impegnarsi nel soccorso alla persona.